Un'esperienza unica di arricchimento culturale ed umano sono pure i viaggi nei paesi limitrofi, allora considerati lontani, per intervenire alle feste religiose. La cosa buffa era che si partiva la mattina o nel primo pomeriggio e si rimaneva tutto il giorno via in questi piccoli paesini, ospitati dalle persone del paese, quindi si faceva la messa, la processione, tutto quello che c'era, si suonava il concerto e si pranzava o cenava a casa delle persone del posto, ognuno prendeva uno o al massimo due bandisti a seconda delle proprie possibilità e si mangiava insieme a loro. Era anche un po' imbarazzante perché non potevi rifiutarti di mangiare, quindi dovevi mangiare tutto, anche quello che magari non ti piaceva, ma te lo mettevano e dovevi far vedere che eri contento e che eri.